Io credo profondamente nel dialogo, credo profondamente nel confronto delle idee, anche duro, aspro, ma in un dialogo in cui si confrontano delle idee nel comune intento di costruire qualcosa di migliore, qualcosa di diverso dallo sbagliato che c'è prima. Non credo affatto negli urlatori i quali impediscono agli altri di dire la sua, non credo affatto in tutti quelli che mascherandosi da cittadini il potere ai cittadini, in realtà vogliono schiacciare qualcosa per creare qualche altra cosa schiacciante. Non credo, non credo, in certe realtà in cui se tu fai parte di un gruppo e osi dire la tua su di un certo argomento, usare il tuo cervello, ahimè, vieni espulso, vieni cacciato. Questa non è democrazia, queste sono le anticipazioni di una futura dittatura. Questa non è democrazia, queste sono le anticipazioni di partecipare. Grazie.